. Evolution, il nuovo album di Anastasia, la potenza della musica. Anastasia, la musica come forma di energia positiva. . Il nuovo album di Anastasia, Evolution. La musica è passione, energia, un linguaggio che trasmette sensazioni in modo immediato e senza filtri. . Alcuni artisti riescono a comunicare qualcosa di più di un semplice motivetto orecchiabile. In questo caso, allora, la musica diventa catalizzatore di sensazioni positive, trasformandole in vibrazioni che infrangono tutte le barriere e veicolano energia positiva allo stato puro. . Evolution, il nuovo album e la voce potente di Anastasia dal sound inconfondibile. . Evolution, lultimo album di Anastasia non è una semplice raccolta di brani, ma una sorta di diario interiore in chiave musicale. . La voce diventa elemento di potente traino verso una dimensione intimistica. . Un patrimonio di esperienze da condividere con quanti riconoscono e apprezzano non solo la qualità dellesecuzione, ma anche la rara capacità di mettere a nudo le proprie fragilità. . Nell'ascoltare i brani contenuti nell'album, si prova la strana sensazione di poter andare oltre, superare tutte le barriere, seguendo il tracciato della forza imperiosa della musica. . Il dolore si sconfigge con la creatività. . Per Anastasia la vita non è stata certo facile, ma la capacità di affrontare con grande determinazione momenti molto difficili si è trasformata in fertile creatività e contagiosa positività. . La cantante ha combattuto per ben due volte la battaglia più terribile che si possa immaginare, quella contro un cancro al seno. . Anastasia come Orfeo ha sconfitto il pericolo della morte con la forza della musica. . La malattia e le altre esperienze che l'hanno segnata profondamente anziché abbatterla l'hanno resa più forte e saggia. . Evolution rappresenta la sublimazione delle esperienze personali in un'espressione musicale di grande fluidità. . 13 i brani in cui ritroviamo una base forte e dolce allo stesso tempo con ampie concessioni al pop rock e al genere dance pop. . La musica di Anastasia ha una potenza tale da trasmettere, allo stesso tempo, l'idea dell'inferno e del paradiso, della caduta negli inferi e della risalita verso la vita che è più forte di qualsiasi altra cosa. . Un Orfeo in versione femminile che con la sua musica riesce ad incantare anche la morte. . Un album da ascoltare tutto d'un fiato, senza interruzioni. . 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